sì 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 c'è scritto live adesso stiamo controllando perché finché un pa eccola lì sì sì avvisato gli altri ci siamo perché c'è bisogno di avere un attimo un feedback sull'audio perché l'altra volta scorsa tu non hai tu non hai la starting soon quindi adesso prendo il tempo e lo butto però non ti preoccupare chat ci siamo con chat intendo amici di youtube perché la chat adesso deve ancora arrivare su twitch perché è 20 secondi che è iniziata la stream però intanto buonasera e bentornati in una madrelingua italiana forse live su twitch italia non è per dirvelo ma lo vedete a schermo è tornato anche luca carbonaro buonasera ciao a tutti amici dell'uio papi podcast avevo promesso che sarei tornato ci siamo visti a firenze per essere proprio colossale ed eccoci qui sì c'è da dire che è stato un bel evento è stato simpatico buonasera pingu come sempre tu sei il primo in chat è una cosa pazzesca sei un fulmine una cosa pingu prima di partire giusto perché remori dalla volta scorsa che ho fatto io lost se mi puoi dire un attimo se mi potete dire un secondo l'audio se si sente bene se si sente doppio io prima ho aperto due secondi la stream sembrava andare bene quantomeno l'audio nostro poi vediamo il tuo comunque buonasera anche ad oscar ragazzi buongiorno e buonasera perché dico buongiorno perché no ah sì buongiorno buonasera buonanotte valgono tutti ragazzi valgono tutti questo è un podcast ascoltabile a ogni giorno grazie a youtube perché d'altronde le live le vedete lì qui dopo due settimane scompaiono e allora fanculo vorrei parlare di tante cose cazzo il problema è che siamo audio di web è un po' basso che è web eh so io so io eh lo so ragazzi purtroppo io c'ho qui l'audio del microfono che è sparato a 3000 quindi proverò a tenerlo più vicino il microfono più di così wow bravo bravo non so cosa fare così fai così no no fai bene guarda hai fatto un'ottima mossa perché almeno così io ti posso abbassare un pochino la discord e voi in stream sentite bene poi vedete meglio una cosa io non è che c'ho molto da dire la parte iniziale quindi lascerò lo spazio a loro quindi io per i primi 30 minuti 40 forse anche no che che madonna sono alla regia e non serva un cazzo quindi no 30 minuti assolutamente eccessivo però la prima parte effettivamente sarà un po' della nostra merce luca anche perché si parlerà di tanto wrestling in italia italiana allora sto finendo di calcolare voi dire che cosa non ve lo dico testa di cazzo aggiungerei peraltro no sto scherzando volevo dire testa di cazzo e pezzi di merda ecco appunto quindi e allora ho finito quello che dovevo fare avendo finito quello che dovevo fare posso iniziare a fare quello che devo fare qui parlare di new wrestling evolution allora new wrestling evolution vuol dire nwe nwe che cosa vuol dire si traduce tutto in napoli l'evento di napoli il 12 ottobre il pala partenope abbiamo capito non so se qualcuno di voi ha live differita è stato lì non so se avete visto qualcosa non so se siete di napoli addirittura quindi avete fatto meet and greet avete beccato wrestler come è successo a qualcuno a giro per napoli però è stato un evento importante uno degli eventi più importanti dell'anno per il wrestling italiano per quantità di pubblico per nomi coinvolti direi di sì e anche per perché era una promoscia storica che dopo tanto tanto tempo è tornata a lavorare gli aspettavo a otranto per un caffè ma non sono venuti sì dovevamo chiedere a roberto indiano doveva chiederlo luca già che era lì a roberto indiano fargli fare una trasferta a otranto perché oscar in chat voleva offrirgli un caffè è un peccato un grande peccato veramente in passato ricordo che eravamo avuti a foggia in passato quindi alla prossima chiediamo di venire a otranto perché no voglio dire allora luca è stato lì ha avuto modo di intervistare anche nick nemeth ma non solo mi sembra pure vampiro qualcun altro ora ce lo dirà lui direttamente neanche farlo apposto ho trovato proprio un reperto mitologico perché essendo qui in basilicata poi tornerò su ho trovato questo dvd mitologico del 2005 incredibile con christian cage questo è un evento della nwe con christian cage per farvi capire giusto una piccola panoramica la nwe è stata una promotion che andava veramente veramente bene durante l'epoca del boom in italia quindi 2005 2006 e era solito a chiamare molti ex da bebli e chiamò christian poco prima che andasse in tna quindi era quello il periodo tra l'altro luca quando hai detto ho trovato un reperto archeologico pensavo ti riferisti a dolf ziggler allora diciamo che non è più nel fiore degli anni ma dire che è così messo di merda ora 40 anni dalle piste a tutti ancora quindi assolutamente no allora in chat dicono che anche qualcuno un dvd evento con christian cage l'ultimo dragon gangrel matt morgan e rikishi pure lì eh siamo tutti nel bugue cavallo ma tu fai i sub quando non c'è pirisi e io madonna sorrido madonna se sorrido ogni ogni giorni qui non c'è andrea pirisi è un bel giorno per il mondo che resta grazie buonasera un salutone al buon luca a sto giro ci sono per assistere a questa collaborazione incredibile madonna mia stai esagerando però è la seconda live no per dirti eh cioè voglio dire non sarà una cosa su base mensile però cercheremo eh quando possibile tra le nostre schedule di fare degli appuntamenti con giud perché abbiamo piacere a farli comunque grazie per il sub sono sette mesi quindi sei nella seconda metà di anno e quindi stai correndo per il vip pazzesco incredibile va bene oltre a questo eh sì tu interviste tutta questa bella gente ma io ti voglio vogliamo andare in ordine perché voglio fare tutta la cronologia sparata proprio pulita voglio iniziare dal pre show se hai trovato qualcuno tra colleghi eh content creators e quant'altro eh ho visto che tanta gente si è fatta la foto con te con il mitico luca carbonaro ti sarei sentito un'icona a quel punto di vista se l'ho messi male se la gente mi chiede le foto vuol dire che se l'ho messi male proprio quindi eh vabbè madonna voglio dire per fortuna a Firenze c'era anche luca appunto come vi ha detto all'inizio a noi dello yapapi non ci ha chiesto nessuno la foto ma meno male ragazzi che era un disastro se beccavamo qualcuno tra 200 cioè in realtà in realtà non è vero perché uno l'abbiamo beccato abbiamo beccato Mike Dagger sì abbiamo beccato Mike Dagger che ogni tanto è in chat eh la foto non l'abbiamo fatta o meglio c'è la foto dove ci sono io e Mike Dagger Federico no perché era già andato a sedere dall'altra parte del settore però eh comunque è stato abbastanza strano buonasera come è stato Wager contro Benjamin? eh vabbè se è andato a Dino dobbiamo andare con calma nei nostri cuori sicuramente lo è stato però da adesso però allora rispetto a pacchi visti in altre federazioni erano pacchi perdonabili perché Benjamin era il wrestling dream e Jake Hager era in Florida la sua serie in Florida è abbastanza problematica quindi no sicuramente per motivi diversi entrambi erano ampiamente giustificati tra l'altro è stato un giorno pieno zeppo di defezioni nel wrestling italiano ma qui voglio arrivare ci alla fine allora come hai detto tu hai fatto il precioso tu la giornata per arrivare lì a Napoli come l'hai vissuta? quante ore di sonno avevi? due? pochissime perché dovendo prendere il treno da Milano alle 8 e partendo da Monza sì praticamente sono uscito di casa che erano le 5 e mezza 6 però vabbè poi ho recuperato sul treno non è un problema ma più che altro sono stato fortunato perché poi c'è stato lo sciopero il giorno dopo e fortunatamente il sabato è abbastanza tranquilla come logistica diciamo quindi sì no io ti dico ero molto ero molto in hype perché comunque io la NW l'ho vista soltanto nel 2013 era sempre a Napoli però al palla barbuto una palla partenope e in quell'occasione ci furono Carlito e Nunzio come due ex da viabili grossi e mi ricordo che fecero più di 3.000 persone quindi fu veramente un attraverso di pubblico perché comunque la NW degli anni d'oro 2005-2006 ovviamente per motivi anagrafici non l'ho vissuto perché all'epoca avevo 11-12 anni però poi ho recuperato i vari DVD e comunque ho visto che la NW nel corso degli anni ci ha chiamato a parte di Kishi che era sempre una presenza storica comunque ha chiamato Christian Test insomma parecchi ex da WWE belli pesanti ero curioso di vedere questo ritorno ero curioso di vedere come rispondeva il pubblico e devo dire che comunque ha risposto bene è una cosa che mi ha colpito particolarmente che di solito sai gli show di wrestling non da WWE o da WWE anche ti aspetti bambini invece qua erano pochissimi bambini c'era una fascia demografica che secondo me andava dai 15 in su ed era anche un pubblico molto smart perché se il pubblico conosceva i subculture a Napoli vuol dire che è un pubblico smart quindi voglio dire erano tra i nomi che io personalmente aspettavo di più per resa tecnica ma non mi aspettavo che 1300 e passa persone conosce ora sicuramente tutti no però comunque se mi dici che c'era gente che conosceva Mark Handles e Flash Morgan Webster ti posso dire godo vabbè proprio Mark di merda tra l'altro loro è stato il match della serata perché io di solito sono contrario a partire con i match di coppia come opener invece quello è stato veramente bello ed è stato il match della serata quindi Andrews e Morgan Webster l'hanno fatto veramente bene e anche i loro avversari Cameron Kai e l'altro di cui mi sfugio il nome si sono comportati bene quindi sono partiti bene il problema è che c'è stato un livello qualitativo molto altalenante perché si sono alternati match belli a match a match meno potete capire cosa comunque era Hipstar Ashmore mi sembra quello lì perché no no ti dico perché perché mi è apparto un reel dove si faceva il gesto della sega davanti alla prima fila non si fa Ashmore ci sono dei ragazzini qualcuno pensa ai bambini come dicevo veramente incredibile sei pazzo però se mi dici che è stato un match della serata non fatico a crederci ora la card penso che tu te la ricorda più o meno a livello di ordine come proseguita anche perché voglio andare proprio in ordine sei match quindi hanno bilanciato molto bene sono partiti con l'opener che è stato questo match di coppia che è durato se non sbaglio una quindicina di minuti no forse anche di più è stato il match della serata comunque tanti belli spot hanno vinto grazie allo schienamento di Andrews che ha fatto su Anton Bomb è stato veramente bello poi il secondo match è stato questo match NWE's Cup ma in realtà non c'era alcuna coppa che hanno dato ed era un match a quattro tra Karim Fabio Pain Keeper e un altro di cui ora mi sfogge il nome forse oh si c'era un nome strano 8 Breed tipo una roba del genere Deimos Deimos qualcosa dicendo che poi ci sono stati un po' di un po' di momenti confusionali però anche qui Karim ha ricevuto un bel pop quindi si vede che magari il pubblico che è di Napoli segue anche Karim non so magari a Roma nell'IW o comunque nei vari trascorsi perché Karim ha ricevuto un bel pop e ha vinto lui con la classica elbow sulla nuca quindi è stato veramente un bel match si 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 può essere io non so se Karim sia mai andato ai miti del wrestling forse si io purtroppo non sono mai riuscito ad andare agli show che aveva fatto Michele in campagna mi ricordo che c'era stato Francesco Akira qualche show che aveva fatto in campagna lì però Karim di solito bazzica sempre infatti il giorno dopo poi era ai tapings della wrestling Roma visto che ha fatto il match contro Ivan Sanzi quindi comunque bazzica sempre in quel territorio lì comunque ha ricevuto un bel pop Fabio ha fatto la sua classica entrata da heel con racchette e tutto quindi si sono comportati bene ripeto qualche momento confusionario però la sufficienza sicuramente c'è dai forse anche un sette e poi poi c'è stato sì poi c'è stato il match è stato un match molto confusionario ovvero il match tra Vampiro Kingdance e Lanzareno un match hardcore dove praticamente neanche 5 minuti dall'inizio del match sono andati tra il pubblico e quindi noi che eravamo nelle prime fine non abbiamo visto nulla perché si sono fatti il giro del palapartenop menandosi fuori dal ring e non non si capiva non si capiva praticamente nulla il problema principale di questo match è che con tutto il bene che posso volere a Vampiro era proprio in uno stato catatonico cioè era era visibilmente assente molte volte quindi ci sta anche il bump finale che si è preso è stato un po' così quindi ripeto ci sta anche perché se non sbaglio e qui non vorrei dire una cavolata quindi correggimi nel caso Vampiro ha ammesso anche che soffriva di Alzheimer quindi comunque ha avuto problemi di salute nel corso degli anni quindi ha avuto tanti problemi di salute lui nel corso degli anni l'ha detto tra l'altro in un'intervista esclusiva che ho fatto io peraltro non è per vantarmi anche perché è stato un parto fare quell'intervista figuratevi sì ma l'ho letta quella che avete fatto uscire prima dell'evento sì 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 dovevo uscire molto prima ti dico solo questo poi puoi trarre le tue conclusioni da solo sì 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 allora cavallo non si sa se era il match di ritiro di Vampiro diciamo che lui come ha detto Luca poi si è visto anche dai video è stato proprio un incontro della discordia questo che era in uno stato pietoso io sono dell'idea che se vuole lottare ancora un minimo ma proprio un minimo di cardio qualcosa deve fare perché sennò deve smettere e se il match di ritiro di Vampiro ex WCW una mente della luce underground arriva a Napoli in Italia mi viene da ridere ma non è non è brutto è carino è una piccola chicca che abbiamo noi sarebbe figo non lo so però non lo so se è stato in un match di ritiro c'è gente che dice di sì che non ve lo volevo dire io penso allora penso che viste le condizioni magari è stato il match di ritiro in Italia perché io non penso che se l'NW torna nel 2025 Vampiro sarà ancora in condizione di fare un altro match ma come non penso lo possa fare anche in Messico però magari in Messico un'apparizione o qualcosa io da quello che ho capito intanto non so ma ti vedo frizzato non so se è il mio problema ma la webcam è la connessione di Giacomo che sono i putenti stai buono stai buono io in questo momento non mi vedo frizzato mi vedete ancora frizzato io sì sarà forse un problema mio eh vabbè comunque per adesso va tutto liscio il fatto di Vampiro è che Vampiro nelle varie interviste che ha rilasciato diceva che lui è in procinto di spostarsi dal Messico in Italia in pianta stabile e lui diceva che vuole entrare comunque a far parte della NWI proprio nella parte creativa quindi dare una sorta di continuità bisogna capire se sarà effettivamente così o meno perché ovviamente tra il dire e il fare poi c'è c'è di dire ci sono di mezzo mille cose di certo secondo me la NWI può essere soddisfatta di questo show perché magari non c'erano quelle 3.000 persone che si aspettavano ma comunque erano quasi 2.000 e a occhio è il risultato di pubblico italiano per uno show non da BABLY più alto degli ultimi 10-15 anni perché se escludiamo l'SW che aveva fatto 1.300 a GDG nessuno ha mai fatto quasi 2.000 persone quindi sicuramente sì infatti è stata poi anche ratificata questa cosa non è che sono dati sparati a voce come la All Elite o BABLY sto scherzando però insomma voglio dire era un pubblico di tutto rispetto una roba strana da vedere per il wrestling italiano come la SW il giorno del giudizio lo scorso marzo comunque sono tutte speculazioni se voi leggete affermazioni di gente che dice e resta il match di tiro di vampiro no cioè nel senso magari sì ma non c'è nessun tipo di certezza io ripeto per le condizioni in cui l'ho visto penso che non ha senso farlo combattere non lo sarà più in Italia non ha senso farlo combattere perché ripeto ma infatti lui si è preso pochissimi bump comunque ha fatto la sua entrata scenografica tra l'altro è entrato come entrava in luce underground vestito da da pontefice e quindi c'era c'era dei bambini che dicevano è arrivato San Gennaro quindi però sì ecco diciamo comunque è sempre un'icona tutto massimo rispetto per quello che ha fatto però penso che non sia il caso di vederlo in maniera attiva sul ring ecco mettiamola così bisogna capire ed è una virtù questa ricordiamolo sempre quando è il momento di smettere sempre allora procediamo dopo questo hardcore match cosa c'è stato dopo questo hardcore match c'è stata una pausa prima della pausa Michele è seguito sul ring comunque per ringraziare il pubblico l'NW ha chiesto un po' di parere ai vari fan Michele Michele Ippolito e poi siamo partiti col match femminile che doveva essere un match a tre ma purtroppo la ragazza inglese non ha preso il volo non so per quali motivi quindi si è trasformato in uno contro uno un match che avevamo già visto in MWF ovvero Miss Monica contro Jaguar Julie match vinto da Miss Monica che comunque ha lavorato da Hill forse un qualcosa di strano perché potevo capire comunque a Milano sento che comunque la MWF è casa di Jaguar Julie però se non sbaglio Miss Monica anche agli show di Michele dei Mitty Love Wrestling aveva sempre lavorato da Face qui invece c'è stato questo exchange il match è stato vinto da Monica con la con la Stunner il pubblico comunque partecipa anche qui un po' di momenti di defiance però dai per quello che dovevano fare secondo me è andato bene poi c'è stato il quinto match che secondo me è stato il secondo match più bello della serata un triple threat Lucia tra Resplandor Argenis e Ultimo Dragon ecco Ultimo Dragon io adesso devo cercare l'età perché non me la ricordo però Ultimo Dragon ha la bellezza di 57 anni e ancora con i calci ovviamente non ti può fare la Simon Salt ci mancherebbe però la finisher che è molto simile alla destino di Tetsuya Naito riesce ancora a fartela ha la sua presenza scenica però devo dire sono stati molto bravi Resplandor e Argenis che anche lui se vi ricordate lottava a Lucia Underground e hanno fatto veramente dei belli spot quindi anche questo è stato un bel match vinto da Ultimo Dragon con la sua finisher ovazione del pubblico gente impazzita penso che le masche di Ultimo Dragon siano state il pezzo di merchandising più venduto al Palaparteno tra l'altro Ultimo Dragon aveva già girato più volte per Napoli negli scorsi mesi è stata io penso che veramente Napoli sia la sua seconda casa perché penso che ogni 2x3 va in Italia e va soprattutto a Napoli e poi comunque Ultimo Dragon era stato veramente uno dei pilastri della NWE del passato cioè io mi ricordo veramente aveva fatto dei match contro Juventud Guerrera anche contro Pac che all'epoca si chiamava Jungle Pac quindi era veramente uno dei pilastri della compagnia e ripeto a quasi 60 anni ancora si mantiene bene sia fisicamente cioè con personaggio poi l'unico che all'intervista è venuto in ciabatta quindi ma che le vuoi dire cioè viene Ultimo Dragon in ciabatta farei intervista cioè un mito tra l'altro io non so voi ma quando giocavo a Smackdown Airconce of the Pain era il personaggio che savo di più ultimo perché riuscivi a spammare la combo con le finish e quindi era era Playstation Champagne easy win easy win e dai ci sta ci sta li voglio ringraziare Luca Carbonaro perché ho set up recentemente l'emulatore Playstation 2 su PC non ho Smackdown Airconce of the Pain ma se riesco a trovare una copia la prendo altrimenti e ora userai Ultimo Dragon sotto questo consiglio incredibile ma anche perché poi se non sbaglio per PC hanno fatto un sacco di mod cioè hanno fatto Airconce of the Pain con il roster attuale no no l'ho visto l'ho visto questo secondo me è un sito del fatto che i giochi 2K dell'ultimo periodo per amor di Dio gli ultimi sono sicuramente meglio dei Troiai che vanno dal 2015 fino al 2020 escluso il 2019 però non è che si parla di grandissime perle no ma infatti ripeto io preferivo mille volte meglio il gameplay di Airconce of the Pain ma anche quello precedente cos'era Smackdown Shutter Muff c'erano veramente dei giochi alla fine con una grafica ovviamente non comparabile a quella attuale però era un gameplay bellissimo ma solo il fatto di Airconce of the Pain che tu andavi a cazzeggiare tipo salivi sull'aereo sull'elicottero e facevi la foto no ma io sul fatto della grafica sono non tanto d'accordo perché è vero a livello proprio di cose un po' più tecniche tipo texture o queste cose qui sì magari sono più inferiori però anche una cosa semplice tipo le cinture per come sono rese perché se le vedi nei giochi odierni cioè sembrano ma finte nel senso peggiore dei termini cioè sembrano di carta velina perché si muove in una maniera che non ha senso invece io mi ricordo quelle dei giochi vecchi erano più più solide cioè quando se le mettevano sulle spalle o erano attorno alla vita cioè sembravano vere tra virgolette non sembravano di carta pesta ecco yes sono buggate le cinture di cartone che si facevano da bambini quando non si aveva abbastanza soldi per prendere le repliche ecco io le ho fatte allora io vi racconto l'aneddoto sulle cinture di carta allora io le ho fatte stampando ogni singolo pezzo con mio fratello e mi sono fatto i World Acting Championship quelli classici degli anni 10 di Mondo Netro e perché mi casava il designer su WWE 13 e mi dice giocavo io giocavo la WWE 13 sulla Wii sulla Wii cioè no sulla Play no sull'Xbox sulla cazzo di Wii ed era un tumore era veramente orrendo meno male che l'anno dopo ho preso l'Xbox 360 ed è uscito 2K14 goted meraviglioso Luca che scopre il metal di Aircons the Pain vabbè ragazzi è è è l'ora delle botte è l'ora del culetto che si apre e che si apre dentro c'è un carbonaro o forse un donacino adesso si guarda io ho la mia seconda cintura preferita che è tipo la replica ma di gomma di gomma ma di inchia è il WWE in disputa del 2003 tanta roba una cintura meravigliosa quella c'è una vecchia live fatta credo nel 2022 su questo canale che è su YouTube ovviamente dove facciamo una tier list dei titoli tra l'altro ce n'è una anche dove facciamo la tier list dei titoli del wrestling italiano che andrebbe aggiornata perché ne sono arrivati dei nuovi ovviamente sicuramente anche quella del 2022 datata più o meno del 2022 però tutte chicchette che si possono ritrovare quello intercontinental bianco non penso ci sia un titolo migliore sempre stato un fan favorite sempre stato un fan favorite a me piaceva tantissimo ma pure questo ora con il chicchetto di azzurro ributtato in mezzo da genuso non è male l'ha migliorato secondo me quel titolo va bene buono ottimo lavoro ma adesso basta lucia perché ci stanno Alberto e il ciolonna mi ricollego un attimo perché stava arrivando perché io dovevo andare a questo show a questo punto meglio che non ho comprato i voli è stata cancellata la tappa a Barcellona della lucia libere AAA che dovevano fare a novembre e potrebbero cancellare l'intero tour quindi direi ottimo proprio benissimo evidentemente non hanno venuto un cavolo perché io vedevo ogni volta i biglietti erano praticamente invenduti quindi ce l'hanno cancellato un motivo cioè peccato perché avevo voluto vedere l'io del vichingo dal vivo però sarà per la prossima man event time man event time Alberto il patron è entrato con una musica caraibica non so perché sembrava un remix di quella di Carlito e contro The Wanted Man Nick Nemeth che stranamente non si è portato appresso la cintura TNA in Irlanda ce l'aveva in OTT nonostante non era un match titolato qui non si è portato nulla però vabbè Nick Nemeth ovviamente ovazione del pubblico è stato un match stranissimo perché Alberto praticamente ha dominato tutta la prima parte del match addirittura facendo un promo hill contro Napoli e Maradona quindi Maradona l'avevo visto non voleva tornare a casa viva evidentemente e Nick Nemeth ha fatto il classico comeback uno dei finali più anticlimatici della storia Alberto getta dell'acqua addosso a Nick un po' di confusione con l'arbitro lo blow 1-2-3 vince Alberto ok ma bene grazie ma ripeto proprio la costruzione del match perché fai un hill che domina tutto il match e vince anche così ma vabbè però alla fine Nick dopo il match si è preso diciamo la rivincita morale colpendolo con la Danger Zone e poi ha festeggiato con i fan quindi ripeto secondo me è stato comunque utile rivedere la NWE perché se la NWE è tornata è sintomo del fatto che secondo me c'è voglia di wrestling in Italia altrimenti non sarebbe tornata in questo preciso periodo storico però un consiglio se dovessero tornare nel 2025 sicuramente rivedrei un po' i match in card e farei un equilibrio perché c'è stata veramente molta disparità tra i match e rivedrei un attimo anche l'organizzazione perché ho saputo che in molti sono rimasti un po' non delusi però diciamo straniati dalle condizioni in cui è stato fatto il meet and greet perché per esempio era stata promessa una maglietta e un cappellino non hanno ricevuto nulla era stato promesso che avrebbero assistito agli allenamenti i trattatori e non hanno fatto c'è stata un po' di confusione nel metterli in fila quindi secondo me se si riescono a limare un po' di questioni organizzative e si fa un equilibrio dei match può uscire fuori veramente qualcosa di ottimale dal punto di vista del pubblico ripeto fare quelle 2000 persone con il pubblico che è stato comunque caloroso e partecipe è sicuramente un segnale positivo quindi io torno a casa soddisfatto poi comunque è stata un'occasione per rivedere parecchie persone del wrestling web quindi ottimo tra queste qui mi è arrivato in diretta da Napoli un messaggio di Aldo Fiadone Luca e Aldo Fiadone mi ha mandato un messaggio tu dirai suo no era il main event club con Leonardo Ungherini che mi diceva Sonia Cini sei una merda questo è quello che è successo a Napoli al Palapartenope in diretta io ero a vedermi Chauder una delle più grandi seranimate della storia e mi è arrivato il vocale qui su Whatsapp di Ungherini che mi diceva Sonia Cini sei una merda Romanaccioli va bene grandioso incredibile il mio ricordo dell'NWE si si assolutamente si comunque andare a Napoli in Sotaria Maradona vuol dire proprio prego uccidetemi non solo prego uccidetemi e fischatemi sulla tomba te l'ho conclusa anche perché Maradona non stiamo scherzando nel dire che è una divinità a Napoli quindi per questo motivo il Patron non è entrato con sesso e samba ragazzi sarebbe stato ancora ripeto con un remix di una cosa caraibica proprio che non c'entrava nulla quindi non ho idea sono andati a prendere il nome del Rio però non potete utilizzare la finisonga hanno detto cerchiamo una roba che ispiral del Rio non ispiral è il Patron perché boh non lo so comunque allora non credo sia la prima volta però quante volte il campione del mondo della total non stop action ha lottato in Italia perché questa è interessante secondo me da stiluccare per me pochissime se non due tre con la forza con la forza con l'IPW forse stavo pensando a quello perché nel 2015 venne Bobby Roode che era campione all'epoca contro Magnus mi ricordo che feceva lo show adesso non mi ricordo qual era il palazzetto comunque feceva lo show forse paralo c'era automatica no non è paralo automatica era un palazetto più piccolo forse teatro tendastrisce può essere un altro palazzo comunque era un palazzetto piccolo ma comunque fu un bello show quello e mi ricordo che una porzione del match non tutto ma solo l'ultima fu trasmessa in tv su Nuvolari mi ricordo quindi quindi quella non so se si può considerare il match tra Styles e Daniels nel 2005 a Roma quando il titolo era NWATNA però forse era X-DV non era quello mondiale quindi non lo so forse era X-DV anche perché vabbè titolo NWAT non c'è bisogno di andare tanto in là perché è stato difeso a bovolone da Easy3 Elias e Redscott in il match della Megastars e fin qui va bene cioè Megastars l'evento era Megastars NWA proprio e con la collaborazione dell'NWF e vabbè Volgna Wrestling Team che è sempre legata alla Megastars ma va bene allo stesso e io stavo cercando l'Inlotion nel 2015 perché mi ha messo la curiosità ora voglio vedere se lo trovo no non lo sto trovando che palle che vita di merda vabbè amen in stando di fatto no chat scusatevi scusatevi ho chiuso il Twitch eccolo lì io ricordo Bobby Roode ed Eric Young mi sa ma il campione era Roode ok io lo guardavo in diretto su Nuvolari vabbè Nuvolari io non me lo ricordo Eric Young a Roma cioè io mi ricordo che vennero Bobby Roode e Magnus per la divisione maschile per quella femminile vennero Madison Reign e Tarin Terell che era la campionessa femminile però io non me lo ricordo Eric Young forse potrei sbagliarmi ha detto poi ha scritto Magnus con il punto interrogativo quindi potrebbe essere che magari era lui vabbè Axel Fury ragazzi Axel Fury era IPW pura ma tuttora Axel Fury è in movimento in progress in Roma con il dogma la sua stable mi allontano un secondo e torno subito faccio io tranquillo a quello show mi ricordo ci fu un bellissimo match tra Haskins e colui che all'epoca si chiamava Tommy Hand fu veramente un bel match quindi porca troia ragazzi Tommy Hand per voi inacculturati è Malakai Black ok no giusto per per chi non lo sapesse madonna che spettacolo Tommy Hand mi fa ripensare a Jordan Devlin della OTT quello mamma mia Jordan Devlin della OTT era qualcosa che deve essere studiato nel libro del essere umile secondo me poi c'era anche c'era anche David Star ma lui è stata una personalità vabbè fatto parlare davvero davvero tanto c'era un altro legato a David Star che è Michael Elgin Michael Elgin non c'entra niente con il wrestling italiano lo dico perché l'ho letto ieri proprio da Aldo Fiadone che ringrazio per la soffiata Michael Elgin ragazzi dopo anni e anni di ostracizzazione giusta e giustificata dal wrestling per lo speaking out è stato scagionato di ogni accusa è totalmente innocente Michael Elgin quindi molestie Oscar molestie quindi in questo momento si sta pensando a un suo reintegro nel mondo del wrestling perché appunto è totalmente innocente adesso se vuoi tornare potrebbe essere un'idea chi di 349 Michael Elgin ex campione intercontinentale IWG che è stato anche in TNA io ho tutta la sua vicenda devo essere onesto non l'ho seguita mi ricordo comunque c'erano state delle accuse mi ricordo di lui comunque che aveva fatto bene il ring of honor aveva fatto anche dei bei match si può essere praticamente bandito però non avevo seguito la storia invece l'avevo seguita per quello che era successo a a David Star anche perché a David Star praticamente è avvenuto subito dopo noi l'avevamo visto in Italia in Rising Sun nel 2020 poco prima che scoppiasse il covid mi ricordo che venne e poi ci fu tutto il caso dello speaking out ma anche per esempio ci finì dentro Elighero che venne da noi in Basilicata nel 2000 è vero nel 2016 quindi sì quindi sì allora io ripeto non voglio entrare in questioni diciamo calde controverse giudiziarie se però veramente è stato liberato da qualsiasi accusa scagionato ed è dimostrato a livello fattuale che non ha fatto nulla è giusto che venca reintegrato eh sì ma sono d'accordo con te in tutto e per tutto anche perché a me piaceva Elgin un discorso puramente soggettivo infatti era era un ottimo prospetto io corregimi se sbaglio lui non era mai riuscito a vincere il titolo mondiale della Ringovano non l'aveva vinto poi non mi sembra proprio che l'abbia mai vinto con Elgin sono abbastanza sicuro che non l'abbia mai vinto comunque chat I'm not gonna lie e che cazzo no no I'm not gonna lie un cazzo vi mentirò perché non me lo ricordo più quello che volevo dire ah ecco Elikero Elikero io me lo ricordo per Next UK 2019 proprio il l'inizio mamma mia ci sono state così tante persone che ora vedo il giro e dico praticamente lo speaking out ha affossato tutta la scena britannica perché ce l'ha finito anche Paul Robinson prima che venisse reintegrato no c'era finita un po' anche mi sembra l'ex di 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 Will Osprey che era Stas Smackdown quindi alcune persone sono state reintegrate per accuse minori altre praticamente bandite pensa per esempio a Marty Scurl era successo pure con Travis Banks sì ha praticamente falciato la scena britannica e anche irlandese perché comunque anche nell'OTT c'è stato poi un cambio di il management è tutto quindi io ripeto se io sono dell'opinione che se comunque vengono dimostrate delle accuse verso una persona a livello fattuale e non teorico è giusto che quella persona paghi così come al contrario se le accuse sono infondate è giusto che la persona non paghi per me è bruciato l'occasione anni fa sì è bruciato se l'hanno accusato ingiustamente come sembrerebbe essere non è una colpa sua vabbè Dino è vero vaffanculo Jack Gallagher madonna che si è tatuato quel velierone beh ci sono andati un sacco di talenti bruciati proprio e cavoli di oro che si sono fatti bruciare effettivamente me l'ho proprio dimenticato Jack Gallagher me l'ho proprio dimenticato ma anche io tu mi hai sbloccato un ricordo con Travis Banks cazzo Travis Banks ha partecipato credo a World's Collide 2020 in un Father 4 Way meraviglioso con Jordan Devlin Swerve Scott e un altro che non mi ricordo Angel Garza cioè capito quel 4 Way se non l'avete mai visto guardate era una bomba di match veramente Jimmy Evoke Maddo Jimmy Evoke XMLW ed XAW addirittura si sblocca un altro ricordo è positivo non può essere positivo lui non è un ricordo lui lo conosco bene anche lui c'era andato di mezzo era innocente perché non avevo trovato prove però Dream è innocente e lotta nei parcheggi vabbè di parte non vale senti per me in Dream voglio chiedere queste cose voi eventualmente un ritorno di Brock Lesnar casomai venisse fuori che è totalmente strano le faccende della delle molestie tutta la merda che è uscito eccetera 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 lo rivolreste un'ultima volta in WB oppure che domande sono certo che sì innocente assolutamente sì anche perché penso che se non ci fossero state le accuse se non fosse stato implicato penso che sicuramente il posto nell'Hall of Fame era più che scontato quindi comunque io non volevo dirvelo ma questa puntata è diventata un cosplay di quarto grado perché ormai stiamo parlando solo di questioni giudiziali ma è incredibile non vorrei interrompervi più che altro per no credo che no 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 in Napoli penso abbiamo finito avete finito no sì 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 ma è stato strano parlare dieci minuti di casi giudiziali ma vabbè questi comunque sono argomenti abbastanza interessanti da trattare perché sì certo certo è peculiare però è peculiare è vero Dino ah Joey Ryan è quello dell'ecca lecca no ragazzi Joey Ryan è stato no Joey Ryan è ragazzi che è stato accusato proprio di pedofilia eh perché me lo ricordo me lo ricordo molto bene sì 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 qualcosa non minore è pesante anche quindi sì ma se non sbaglio se non sbaglio è stato accusato vedete poi ci sono talmente tanti poi vi diamo argomento se non ne usciamo più anche quello della Cicara Quackenbush ah è vero Mike Quackenbush porca troia eh più che altro lo speaking out ha distrutto giustamente tra parentesi molte carriere sì la maggior parte sono giuste altre sono state distrutte con accuse appunto e poi si sono rivellate infondate un esempio può essere all'atto odierno Michael Elgin e altri va bene basta così comunque abbiamo capito il punto è stato siglato ehm sì sì cavallo è tornato è tornato ma è un po' che è tornato sta nel giro delle indipendenze io mi ero persa questa cosa cioè io di Elvettin Dream ho visto l'intervista che ha fatto a Bambli unica praticamente pubblica ma poi non sapevo che lui fosse venuto a lottare quindi mi ero persa questa cosa da che so io sì magari sono stato informato male io cioè buoni tutti secondo me è tornato cioè mi sembrava proprio che fosse tornato a lottare certo come ha detto Dinu sta nei parcheggi sta nei parcheggi sta nei parcheggi ora perché tolte le accuse comunque lui non è che è stato tranquillo come personalità sono state robe strane pure lì senti 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 sì ok Patrick Clark è il vero nome comunque di Elvettin Dream allora parliamo parliamo di WWE togliendoci dal quarto grado un attimino vai io voglio parlare con Luca dei Crown Jewel Championship l'idea è una merda oppure una merda perché il Crown il Crown Jewel Championship ho detto allora no aspetta aspetta ti dico c'è stata una chiave di lettura che è stata buttata qui e secondo me è interessante vederla in quel modo è un escamotage per togliersi i match grossi da uno dei due eventi arabi con questa appunto con questa scambata con questa puttanata del titolo e potrebbe anche essere il problema è che che senso ha un titolo che praticamente lo difendi soltanto due volte all'anno perché non una perché non è il titolo arabo è il titolo Crown Jewel quindi praticamente non è canonico in altri eventi il senso non lo so non lo so è assurdo quindi è vero allora saremo inguaribili romantici poi so che Luca è uno che spinge tantissimo anche commentando io pensavo al PL in Italia sì a quell'annuncio di Triple H o era l'elimination chamber in Reigno Unito sì ma ragioniamo Triple H ti va a annunciare il PL in Italia in America durante Bad Blod non avrebbe proprio avuto senso no 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 ma era un pensiero fugace è più probabile che annunci i primi live eventi in Italia quando torno qui con un house show guarda no allora voglio parlare un attimino di questa cosa prima finiamo con Crown Jewel che deve essere giustamente preso in considerazione allora come detto un titolo che va difeso una volta sola aspetta ma due minuti due minuti due minuti perché due minuti perché vi voglio riportare alla memoria qualcosa che potrebbe fare la fine del Crown Jewel Championship il titolo di campione della Greatest Royal Rumble Giacomo io te la butto lì io te la butto lì secondo me io voglio Braun Strowman contro il vincitore di quella cintura del cazzo un winner campione arabo ma oltre a quello io mi ricordo quel trofeo di merda che vince Undertaker che ne ha sai come si chiama si chiama Two Wake Trophy non me lo scorderò mai non me lo scorderò mai era un palazzo di cristallo ragazzi ma come dimenticarsi di Shane McMahon migliore al mondo con tanto di coppa ragazzi la coppa incredibile comunque si è vero Dinu Bash & Backlash l'aveva annunciata a casa sui social e ti posso dire se ci dovesse essere e il rumor ve l'abbiamo detto da quattro mesi ma ripetiamolo ancora vanno in quella direzione l'annuncio per me lo fanno proprio così a cazzo lì in Italia su Instagram allora io ricordo e sono andato a ricontrollare che Backlash Friends è stato annunciato a metà novembre 2023 per poi farlo a maggio quindi secondo me si arriva entro novembre se non arriva entro novembre l'annuncio sono due le spiegazioni o è cambiata la schedula e quindi anziché fare Backlash fanno un altro evento durante l'anno magari con un nome tipo Bash in Berlin oppure Slit a 2026 ma non avrebbe senso perché dopo il soldato che hai fatto a Bologna dopo tutte queste voci queste cose non puoi non farlo quindi io resto convinto della mia teoria cioè di fare lo show a Torino o magari fanno fare non so fanno fare l'annuncio direttamente a D-Max o ai commentatori perché ripeto avere un annuncio così sui social a cavolo sai che dal nulla ti esce la grafica sparata non lo so secondo me è più probabile che magari la pagina di D-Max faccia qualcosa quindi però ripeto io voglio essere fiducioso fino a novembre poi se a novembre non vediamo nulla capiamo però ripeto non penso ci siano altre location in ballo per Backlash per il 2025 quindi vediamo io ho detto un'altra cosa però questo è un mio sogno ricondito sapete c'è Giovanni Vinci che sta in una losing streak mio sogno è che lui risalga la china vada a sfidare il campione degli Stati Uniti e quando c'è il face off ti combatteremo ma in un territorio a me favorevole io e te bashing a Torino ma il problema è che devi fare una storia che va avanti quattro mesi perché se lo annuncio è impossibile visti i tempi che si figlia Tripolet c'ha voglia dai in effetti però no no devo dire che Giovanni Vinci a speed ha fatto vedere più robe lì in due minuti contro Scimus ha perso comunque qualcosa l'ha fatta vedere ok ha perso giustamente guarda che cavallo ti ho sputato un fatto io stavo pensando a quello il meme sarebbe vince che perde letteralmente sempre e come Kartokins vince il primo match in Italia sarebbe triste però in caso sarebbe una cosa buona per lo Smackdown perché ovviamente fanno la combo fanno la combo Smackdown ragazzi è impossibile ormai fanno così e poi ripeto oltre a fare la combo perché me lo chiedevano molto anche a Napoli cioè ragazzi preparate le chiappe come si vuol dire per i prezzi perché i prezzi non saranno quelli della società di Bologna cioè scordatevi scordatevi che con 100-120 euro avete la prima fila a Lione la prima fila 350 prima fila 3 chiappe a questa Lione 3.000 la prima fila a Lione 3.000 si infatti no 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 io il mio gruzzolo da parte ce l'ho certo è che ho anche il mio gap non voglio spendere più di un tot inutile dire che io non punterò a niente di package non punterò a nulla di rip perché si può capire non vivo in una reggia si può capire la mia situazione però ho i risparmi e per farmi la combo Westmecton Pielini Italia di una disciplina che amo che l'ho resa un mio lavoretto perché lavoro no però lavoretto si ragazzi è un sogno e quindi bisogna vedere se si realizzerà comunque come ha detto Coso Dino anche Bashing Berlin l'avevano annunciato pure in questo periodo vi dirò pure io quando l'ho scoperto Bashing Berlin Bashing Berlin settembre 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 comunque quasi un anno che è successo chi è entrato no ragazzi buonasera buonasera signor Carbonaro ho una spiegazione mi sono svegliato dieci minuti fa ma lo sai che io ci avevo pensato perché mi sono detto tu non hai aperto telegram alle nove per cinque ore le cose sono due o è morto e purtroppo non è così questo succede quando dormi tre ore a notte in media tutta la settimana sì posso confermare cosa succede vabbè comunque di che state parlando abbiamo finito di parlare dell'evento di Napoli abbiamo fatto una bella recensione l'ha fatta Luca perché l'ha fatta lui una bella recensione dello show abbiamo parlato del tutto abbiamo fatto poi una puntata di un quarto d'ora di quarto grado parlando di roba giudiziaria e di restare con accuse e poi ora stanno parlando e lo speaking out perché no Michael Elgin che forse non conosci ah no non ce l'ho presente poi abbiamo parlato anche di Velvet in Dream comunque insomma allora ora siamo arrivati a parlare dell'annuncio ipotetico del PL in Italia in realtà prima abbiamo offeso Crown Jewel per l'idea del titolo Crown Jewel giusto che Luca ha abbracciato perché è stato un po' un discorso raffazzonato ma si è d'accordo si è capito guardate che faccia cioè è tristissimo fare il Crown Jewel però secondo me Cody Gunther comunque sarà un bel match però quel titolo eh ma comunque un po' sprecato capito cioè farlo così in un contesto senza storia poi devi sospendere tutte le storie fino al PLI però io ragazzi vi ricordo che ci si becca anche Naya Jax contro che culo no lì c'è però è una scappatoia che è l'incasso di Tiffany Stratton andate a fare se lo fanno in Arabia comunque oh ma secondo me si no non lo faranno in Arabia ma mai perché sono i sedi in Canada esatto no eh non potrebbe Giacomo ricordati avevano provato a lanciare l'esca con Brock Lesnar quando ha remissato il Money in the Bank nel 2019 e era il 2019 sì sì era il 2019 l'ha vinto nel 2019 ma ah no è vero è vero perché Money in the Bank l'hanno fatto come primo pay per view dopo essere il mini a quell'anno l'hai casato Extreme Rules me lo ricordo Brock Lesnar Mr. Money in the Bank ci sono trovata di tutte sì e solamente per la questione del beatbox se me lo state chiedendo il beatbox no no perché hai visto il joke l'era a caso perché fa beatbox anche lui perché sono serious va bene basta questa stronzata Tiffany Stratton stiamo drogando troppo no no Tiffany Stratton non è canadese comunque cavallo è del Minnesota credo Minnesota sì sì del Minnesota no no fai da vedere dai devo dire dubbio lei è nata sì Prior Lake Minnesota Jessica Woyniko Woyniko con la L è il vero nome madonna che nome di con nome di merda scusate poi ragazzi volevo chiedere una cosa giusto per anche un po' calmer il regometro lo so se vi interessa aspettative per il tour di L'Italia John Cena nel 2025 ah croccante croccante perché lo ripeto sì sì vai te Luca scusa vai Luca perdona no 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 io ho hype perché secondo me potrebbe interagire con vecchie facce anche nuove cioè io penso che non so un match ma comunque un face off di nuovo con The Rock secondo me ci starà però ci potrebbero essere anche match novità cioè io sono sicuro che se Gunther rimane campione un match con Gunther con la cosa ma lo vince non lo vince il titolo lo faranno farà secondo me un match anche con Bonebreaker sì potrebbero rifare perché no riaprire una rivalità con Punk io ho molte aspettative per il tour di Tio di Sina anche perché è stato detto che lui si farà tutti gli eventi internazionali quindi se si fa il PLA in Italia ci sarà anche Sina che lotta quindi più che altro io guarda più che altro di riaccendere la rivalità con Punk io speravo di rivedere un tag team in coppia con Punk non so perché perché non lo so secondo me loro si sanno che sono amici si rispettano tantissimo secondo me io guarda me lo sarei un po' giocato se per una cosa se casomai si riaccendesse la faida tra Punk e Rollins mettermi in coppia con Punk per proteggere Rollins e qualcun altro non so bene chi pensavo tipo a Drew McIntyre così per ridere però i due massimi hater di Punk che tra l'altro hanno ragione sottolineamolo però per fortuna non sto a bucare gli show anche Sina Drew potrebbe essere un ball member match ma anche lì poi un altro match che vorrei vedere però lì devi mantenerli tutte le tue due face Sina Cody perché per quanto mi piacerebbe vedere Sina Hill penso che ormai quella nave sia salpato da più probabile Cody Hill più che Sina io tra l'altro Sina Cody secondo me lo faranno come sarà uno dei miei eventi di resta il meglio se mi fanno il triple threat The Rock Cody Rhodes e Roman Reigns io la prima volta che becco Cody Rhodes in Italia lo gambizzo lo dico chiaramente dateverà fanno fanno tutte due triple threat è questa la strada che stanno prendendo ma speriamo non lo facciano avrebbe senso perché magari pensano vabbè almeno così The Rock ha più aria ha più tempo per prendere fiato e cose del genere però Andrea sinceramente no perché non serve fare il match con 3000 moonsault e 600 cani del distrovere basti vedere il precedente che The Rock stesso ha fatto con Al Kogan ti basta anche il momento la carica dei due contendenti non serve fare chissà cosa a livello tecnico poi secondo me The Rock nel match di coppia un pochino ha sorpreso io mi aspettavo che si uccidesse al primo tentativo di People's Elbow lo dico chiaramente e in parte è successo perché sei infortunato però capito vabbè sei infortunato sul set di un film non a Wrestlemania sì è vero ma quale film mica Red One boh non ne ho idea però io mi ricordo perché ero lì ero nel New Jersey quando ci fu The Rock Cena The Rock si infortuna durante il match e dovete saltare le riprese di Hercules lì quella quella grande ragazzi un grande capolavoro del cinema porca puttana quella è sentita un capolavoro premio Oscar che lavoro Gunther contro Sina ha chiesto Dino beh magari comunque mi aspetto male male dal tour di Sina sincero eppure è il mio gott io ti bannerò prima o poi no no non fare così sei fortunato quest'anno in quel film sulla box MMA mi pare ma si si è vero facciamo quel lottatore si è vero si 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 ma sapete che ridere se John Cena tipo boh che ne so entro Wrestlemania si rompe e va a portare tutto si scrocia no si scrocia Sina è finita in pagine 5 minuti subito e voi continuate si si vai bullito ci ha ucciso in ritmo no ma nel frattempo vorrei commentare questa notizia che ho letto Donald Trump sarà ospite del podcast di Undertaker Six Feet Under con Mark Halloway ho letto anche io adesso in chat speriamo dai farà bel content ci sarà da ridere finalmente Content Taker alla massima spensa è proprio multiverso proprio beh tanto Trump è stato di recente mi sembra anche su Impulsive il podcast di Logan mi sembra di sì no ragazzi Trump ma voi forse non avete oh Giulio 4 bit cazzo sei impazzito sei folle grazie esagerato buon salve non so se avete visto Batista che dà della puttanella a Donald Trump no non ho visto in un clima bello scandescente quindi ho visto no c'è il video su Twitter non avendo Twitter però mi hanno girato il link l'ho visto prima è stato un fever dream veramente un fever dream notizia tremenda Styles forse si perde ma ragazzi ma Styles si è rotto davvero sì tra l'altro è un infortunio veramente brutto quello di Styles che allora è una frattura di cui non mi ricordo il nome preciso ma se dovesse essere rotta in modo grave potrebbe anche concludere la carriera anche perché se non sbaglio Styles diceva su Twitter che in pratica per poco non ha visto l'osso che usciva proprio dalla quindi sì è vero si è infortunato quando ha fatto quella mossa maledetta lì la Urac su Carmelo che è proprio caduto porca sì si sto andando a guardare di grave perché pensa tipo la carriera di Styles si interrotta così cioè no dai no sarebbe terrificante dai cazzo aspetta che sto andando a controllare perché voglio una roba precisa in questo momento la curiosità mi ha preso il sopravvento devo ammettere chat scusatemi mannaggia la puttana ma non c'è scritto un cazzo qui ma io vorrei sapere mi sto arrabbiando non lo so mi sta arrabbiando tantissimo non mi carica la pagina aiuto che fastidio ok intervento chirurgico no non c'è scritto un cazzo ma faffanculo niente mi sono rotto le falle ma faffanculo penso che ne sapremo meglio domani a Smackdown cioè se è ufficiale o dovrò annunciare in qualche modo quindi scusatemi può essere che cosa è ufficiale no che stai si è rotto veramente in modo brutto 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 ok ragazzi ma che è che sta sbattendo le uova che cosa vuol dire questa cosa no probabilmente era il rumore della pioggia che si sentiva dal mio microfono può essere si pure da me oggi una pioggia generale dappertutto Luca mica da te è piovuto da me qui no però solo perché sono in Basilicata però so che in Lombardia sta piovendo a dirotto quindi ecco quindi è magari una cosa che scende esatto scende non appena non appena non lo assumi mi aspetto mi aspetto di tutto e di più quindi sì eh sì sardo ogni volta che apri ma come sardo ogni volta che apri il microfono no perché gli ho messo in link il sardo ah ma scusa ah ma perché eh sì è vero non avevo la strema aperta in Puglia fa caldo eh sì eh tramulo con una foglia 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 allora grattati le grattati le palle pure tu amico eh te le dovrai fare a stile libro gli ultimi chilometri a casa vabbè sentite una cosa però la voglio dire dica eh facciamo ufficiale perché la voglio rendere ufficiale bold prediction annuncio eh piedi in Italia e con bold cosa vuol dire dobbiamo beccare il mese dobbiamo beccare il mese ragazzi da ottobre 2024 in poi perché io il mese in cui viene annunciato o il mese in cui si farà l'evento no il mese in cui viene annunciato quando lo fanno non possiamo saperlo dipende ecco di l'ho sparato dicembre io dico che verrà annunciato tra metà e fine novembre boh se lo vero annunciare a questo punto il periodo della rumble chat metà novembre clean metà novembre clean l'importante è che lo annunci certo giulio ha detto dicembre quando poi avremo la grafica e tutto ci ritroveremo qui in live a commentare sì sì assolutamente sì crown jewel a casa non annunceranno il piedi se annunciano il piedi a crown jewel dino ti devo qualcosa ma quando ci rivedremo ti offrirò un caffè non so che può gli rivedremo uno scappellotto gli rivedi arabitaly proprio full power anche perché ora in Italia c'è in Italia va a cagare e in Arabia c'è un italiano importante che è Sinner appunto che è andato in finale del Six Kings Slam che è il torneo dei soldi chissà perché in Arabia è lo sponsor della Roma is possible annunceranno a caso su Instagram secondo me sì però è probabilissimo sì sì va bene comunque se lo annunciano mi è avuta in mente una cosa che ne so in tandem con Prime o con la UE perché se è Torino devono fare un qualcosa di marketing legato perché ripeto fare un post cioè ci svegliamo la mattina apriamo X backlash Torino così a caso mi sembra molto strano no ma c'è Francia e gli altri eventi hanno fatto così però come abbiamo detto ci sono tra i Brains e le WWE chi erano quelli che erano tifosi della Juventus Cesaro che non è più in WWE eccoci un punto Rey Mysterio no è interista Rey Mysterio come interista Rey Mysterio non lo so pensavo ti fasse Cagliari mi è morto un mito ragazzi no forza chi cazzo c'è bella domanda Billy aveva fatto la foto anni fa con Mal ah Jinder Mal ti fa Juve perfetto e allora ma lì non è che ti fa Juve è una cosa di marketing che dietro le magliette a lui e a Belli quindi non è che ti fanno Juve certo certo però è bello pensarlo si incara il laziale va bene un sorcio mascherato un sorcio mascherato laziale no ma comunque ma povero non mi ricordo se ce ne erano altri però comunque potrebbero forse è Seamus forse è Seamus no non è è Doriano lui è forse San Doria ah è freddo lui è Doriano anche i Rusev è Doriano o lo fanno o lo fanno annunciare all'Ogan Pol con la Prime magari non so boh mi sparo nei fronti stifoli comunque vabbè stai calmo ma non è andato a vedere la Roma è anche andato a mangiare a Firenze Valdoro se volete saperlo in realtà però e i Jay Francis in alcune puntate di neve aveva la maglia della Juve ma non me ne frega un cazzo i top doll a quelli mi stava scappando la G-Word Tony D'Angelo che ha detto che vuole dare uno spin italiano al titolo Nord American ha detto no è disastro dai Tony dai Tony ragazzi ragazzi lo fa lo fa è strap verde bianco rosso con la penisola italiana sempre blanco no se fa veramente titolo italiano io vado fuori di cerferlo mamma mia oh cazzo sia la Fanatic Fest la Juve ha fatto le maglie a Ria e Cody ma anche lì è discorso di marketing specialmente titolo finanziato dai soldi del pizzo Tony D la butta di fuori ma Tony D la butta di fuori dall'inizio anche perché fanno il rematch ad Halloween Evo settimana prossima noi faremo i pronostici di Halloween Evo perché comunque c'è ancora una puntata però io rivedere come fammi perdere non lo so avrei evitato già il titolo a Tony D ne lo do lì già eh no no non ne lo trovo a priori semplicemente ragazzi ma io non ho capito che è tutta questa aggressività contro Tony D porca puttana è un worker cioè è un worker onesto normale il premio è quello che mi fa incazzare che anziché vedere un vero italiano dobbiamo vedere uno con la gimmick del mafioso che vince il titolo però sembra un po' una gimmick che poteva fare Vince McMahon nel 1995 poi come worker si fa il suo eh sì accettabile avevamo avevamo un unzio che è sempre nel cuore possiamo farci andare bene ah beh senti 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 se vince il titolo il titolo dei pesi leggeri in un house show a Roma mi ricordo Nunzio nel 2005 incredibile incredibile se abbiamo avuto Nunzio che ha vinto il titolo abbiamo avuto Santino che ha vinto il titolo intercontinentale ma perché non possiamo avere Giovanni Vince che vince il titolo US a Torino perché non possiamo averlo no no è complicato cioè secondo me è proprio complicato però un discorso con Giovanni Vince come Ludwig Kaiser in Germania impegnato in un match di spicco quello sì a Smackdown non penso lo metteranno nel nel PLA proprio come Kaiser che poi si completano Imperium ex Imperium io penso allora se faranno la combo Smackdown e il PLA Giovanni deve stare nel PLA cioè non può stare Smackdown no Luca Ludwig Kaiser non l'hanno messo nel PLA lì perché comunque il loro eroe eroe tra virgolette che poi non è che è tedesco però era Gunther quindi abbiamo solo Giovanni voglio dire Luca i tedeschi sono già fatti comandare da un'Austria qualche anno Neole vabbè no comunque io tra l'altro una cosa soprattutto io spero che un giorno riusciranno a farli fare l'ingresso utilizzando la sigla di Soprano vi prego non lo so dipende da quanta voglia questa è proprio una roba la Connie Khan scusa se te lo dico ma è un po' di quelli che è uno di quelli che va lì a chiedere le royalties voglio dire una volta la WWE per l'evento dell'ECW ha usato Enter the Sandman e Metallica per Sandman porta puttana non si può avere che coso sì anche Stinga Wembley ha usato Enter the Sandman e Metallica me lo ricordo l'ha creata Vince sta gimmick quando è nato 2.0 era lui? c'era Vince dietro ma davvero? è nato nel periodo in cui Vince ha preso in mano NXT perché AAA ha avuto un attacco di cuore se vi ricordate si vede che è una creazione di Vince comunque è la gimmick di Tony Angelo sembra proprio la gimmick che avrebbe potuto tirare fuori nella New Generation Sleep with the Fishes voglio ricordare che ha tre omicidi all'attivo Tony Angelo questo è diventato campione chi non ce li ha esatto facciamo tutti i giorni siamo italiani noi facciamo così vabbè da mad senti i preti deadly e quello che poi è stato licenziato assieme a Stax è two dimes si chiama madonna mia c'è i preti deadly sono aspetta semplicemente non lottano no non lottano non fanno un cazzo ah pure Gulak vabbè sono quattro vabbè Gulak se ne meritava di buono si Gulak se ne ha meritato per davvero non erodicamente ma che peccato perché era allenatore su 2K19 Gulak sul videogioco è caduto un mito videolutico vabbè a me Tony mi fa simpatia non so che farci ma vabbè è simpatizzante nella mafia quindi ti viene più semplice amarlo si capito voi non lo sapevate tutti amici di pleasure nel mondo del wrestling qualche puttana il tuo di pleasure era stare nel 92 a capaci però va bene lo stesso come cazzo ti pare Stax è la roba più brutta che abbia mai visto in WWE con Goldberg madonna mia che è ma che cazzo è diventata sta stream l'hating hating out no speaking out prima quarto grado poi questo non lo so scusatemi ragazzi però tutti non chiedete dire è un mafioso è un mafioso quindi deve fare il forze cattivo cazzo abbiamo avuto un vecchino non morto che ha ammazzato il proprio cioè nella major che è stato face e comunque veniva sempre tifato ma non rompete i miei coglioni porca troia ma con i chiedemi il pizzo ti prego vabbè ragazzi non potete fare queste cose come worker Tony D mi piace pure abbastanza cosa vuol dire pure abbastanza tanto Giulio questa me la devi spiegare immaginate se portano lui e Giulia nel main roster al PLN Italia abbiamo Giovanni Tony e Giulia guarda Giulia godrei perché effettivamente italiana di sangue un pochino ho capito qual è però ho capito il motivo Giacomo razzista comunque no ho detto questa cosa l'hai fatto intendere bastardo vabbè touche sentite allora avevo detto avremmo parlato dell'AW ma no non lo faremo però voglio parlare un attimino della TNA perché noi si è parlato tanto di PL italiano da BW in Italia Luca tu avendo parlato con tanta gente della Total Non Stop hai parlato tanto anche di tour italiani eventi in Italia cioè secondo te con tutta l'onestà che c'hai in corpo tirala fuori percentuale di possibilità di un evento qualsiasi tipo evento TNA in Italia un evento non non televisivo così secondo me percentuale ti do un 52% un evento non televisivo uno show televisivo impossibile perché comunque la TNA in Italia non va in onda se non tramite l'app TNA Plus quindi non c'è copertura televisiva è impossibile però provare a fare uno show magari in palazzetti anche piccoli con 1000-2000 persone lo puoi provare a fare secondo me o fare magari anche uno show TNA quindi con 3-4 persone della TNA in collaborazione con qualche altra promotion quello sì secondo me potrebbe essere fattibile invece già se tu mi dici una registrazione di impact o un pay-per-view quello assolutamente no impossibile allora su un tour europeo perché loro hanno fatto i tapings in Inghilterra mi sembra sì sì io andai ai tapings del 2012 e 2014 entrambi a Londra alla Wemble Arena è completamente sold out ma all'epoca c'erano ancora Stiles Dennis poi vabbè c'erano pure Sting e Hogan ma Hogan secondo me è stato quello che ha fatto un po' scendere tutto i foglioli sì vabbè oltre a quello anche la qualità perché secondo me la TNA è iniziato un po' a decadere dal 2010 con Hogan lo pensano in tanti sì sì sono d'accordo anch'io lo penso anche io sono tra i tanti io penso che gli anni d'oro della TNA siano stati dal 2005 al 2008 2009 2009 ancora ancora perché comunque c'era la man event mafia che premiamo delle stable più belle c'era quando c'era l'angol i moonsault arrivavano in orario mamma mia mamma mia ma voi lo sapete che la main event mafia si è reincarnata nella midcard mafia l'hanno disputa kingdom in AW mamma mia incredibile ho visto il segmento ho visto il segmento di Adam Cole e basta ragazzi io però io vorrei farvi notare una cosa ma la storia dell'elite che voleva prendere il controllo dell'Aidami che cazzo di chi ha fatto la risposta è boh e basta non pervenuta l'hanno abortita perché mi hanno fatto conto che i young bucks erano come cattivi erano credibili come un orsacchiotto di peluche il capo di al-qaeda probabilmente non lo so vabbè sapevate che Tony D'Angelo ha un omonimo nell'industria pornografica monosessuale vabbè ragazzi grazie della stream Henry e Chris Bay mi pare che avevano detto di volere la tenera in Italia si con Luca cioè Chris Bay mi sembra proprio con Luca una roba del genere sbaglio? si no Chris Bay fu il primo che avevo intervistato anche per il podcast poi ma in realtà quello che è stato più positivo è stato Joe Hand dicendo che se vinceva il titolo portava la tenera in Italia quindi appena lo vince lo andiamo a richiedere anche perché Joe Hand vedo che ci sta facendo varie tappe europee perché verrà ora a novembre in Germania doveva venire in Francia ma visto che è saltato il booking però lui sta avendo diverse volte in Italia quindi e secondo me lo vincerà il titolo Rabon for Glory quindi lo vincerà e entrerà da campione TNA all'Areal Rumble ma cazzo bella roba tutto plausibile poi ho letto che il contratto a Joanne riscade Joanne riscade nella seconda metà del 2000 si è saltato Andrea scusa io si è saltato un attimino comunque saranno tantissimi che c'è Giordina Grace che non vede l'ora di saltare lo squale in WWE a Giordina riscare tra poco tra l'altro il contratto sì si si a Giordina e a Joe tutti e due no a Giordina la seconda metà del 2025 ho letto ah è ok penso che fosse un po' più vicino va bene comunque Giordina inizio anno quello si è sicuro ragazzi domanda così perire vai se poteste portare nuovamente un vecchio peperdù tipo come è stato Bad Blood quale scegliere Starmageddon ho risposto io in tempo zero però potete scegliere quello che volete ragazzi io rivoglio grandi palle di fuoco lo sapevo lo sapevo era ovvio no io voglio sapere Luca se c'ha una pic di peperi storici figli che vorresti magari come in Italia vedendo anche come sono campetti social e le interazioni vorrei rivedere un Taboo Tuesday Cyber Sunday quelli lì ah figo Cyber Sunday dai Cyber Sunday per me è un nome della madonna sai che bello io vi direi Stomping Grounds perché piedi ah bene rispondendo seriamente un caso di più che mi piacerebbe rivedere probabilmente è No Way Out o Unforgiven ah Forgiven cazzo roba Unforgiven mi sa proprio da posso dirlo PLI di NXT cazzo sì un altro forse è riportare No Mercy come primo live event nel main roster No Mercy come evento in Francia No Mercy anche No Mercy o anche Vengeance perché Vengeance Vengeance lo so che ormai è un premium live event per NXT però non lo so oppure anche Judgment Day per fare confusione con la stable e in Italia almeno abbiamo due giorni del giudizio sì o anche il payback onestamente non lo schiferei è stato ripestato nel 2020 nel 2020 nel 2020 no nel 2020 nel 2020 no 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 ci hanno fatto anche Nakamura Rollins mi sembra no sì 2023 più che payback Battleground a me piaceva come nome concept anche ora sempre NXT ok sì c'è la ruota di NXT ribadisco ne parleremo la prossima o le prossime volte che facciamo pronostici di allo in evoc Armageddon non gasava sì poi che cosa c'è aspetta no c'era un paio di Adam Cole face zio Fera l'ho detto il discorso MJF Adam Cole è stato tutto strano a Wrestle Dream e io ho visto un po' di Wrestle Dream figurate ragazzi se non è andato via quello che ora stanno tutti incolpando dei pezzi di decisione di Booking come cazzo si chiamava oddio mi si è scappato il nome sì lui lui è quello vediamo quanto vediamo quanto dura questo scaricavarile quindi perché se non me ragazzi io non me la bevo era tutta colpa sua più che altro anche se fosse cioè non era lui il padrone della federazione ne hai capito cioè anche se Tony Khan avrebbe potuto e dovuto dire no Ciccio it doesn't work for me comunque Double J l'ha buttata di fuori come si suol dire però non è Jeff Jarrett è l'altro sì Oscar comunque hai riassunto in due parole quello che volevo dire io bravo quello licenziato da Vince per aver fatto un selfie con l'elite con Invasero Ro insomma ah è vero parlando di NXT io ho pescato su YouTube un match incredibile NXT Dark Match Lindus Share contro Turbo Magnum e D3 D3 sì sì allora io non so io a NXT mi ricordo Andrea Andrea Guercio che le avevano dato il nome Vincenzo gli avevano dato un nome strano Antonio De Luca forse comunque Luca De Luca e a Cristiano Argento che l'ex mambo italiano certo pazzi e sgrappata mamma mia che storia loro due italiani che hanno avuto più visibilità assieme a Laura Di Matteo no basta Laura Di Matteo ha avuto i match NXT UK la Di Matteo c'è anche il Titan Tron della WWE della Di Matteo su YouTube se lo cercate Red Scorpion ha lasciato intendere che la WWE pre quarantena lo voleva fortemente non era ancora cioè Red Scorpion è credo l'atleta italiano il lotto stabilmente in Italia più popolare di tutti secondo me se c'erano dei piani per NXT UK anche Karim era in orbita io penso che poi i piani purtroppo siano saltati tra pandemia e fusione con UFC e quindi NXT Europe non lo vedremo più però secondo me secondo me c'erano dei piani per fare qualcosa con l'Italia anche sì sì assolutamente sono d'accordo comunque io ti dico perché non ti ho dato la risposta alla fine ci siamo inerpicati quella 24esima volta su altre cose abbiamo parlato di molte più cose di quanto pensassi per me la TNA in Italia ci può avvenire come parte di un meticoloso tour europeo la tappina in Francia in Germania e però in Italia la fai sempre nel nord e mi sa di sì la faranno sempre cosa a Milano oppure di certo non penso la TNA a Napoli fai Roma no Roma o Firenze sì insomma comunque cerchi di accentrarti il più possibile forse Firenze però Roma siamo lì visto che comunque c'è una collaborazione tra TNA ma potrebbero venire in Italia con una collaborazione effettiva ma qualche verso di NXT lo girano se c'è bisogno ma non penso ci siano dubbi anche perché ormai l'accordo è questo tra l'altro o un evento crossover in NXT no quella la vedo durissima per il semplice fatto che ripeto la TNA purtroppo in Italia non ha copertura televisiva cioè praticamente assente quindi a meno che non ti scarichi l'app nonostante comunque io parlando con il management della TNA mi dicevano che comunque i numeri sono buoni non sono eccellenti però ci sono tanti italiani che seguono dall'app però il problema è che non essendoci copertura televisiva è impossibile quindi già normale già è un miracolo ripeto se fanno veramente fanno un tour europeo e quindi ci infilano l'Italia nel mezzo quindi neanche l'idea di fare proprio una collaborazione anche smizzando non smizzando sì cioè comunque fare le notte ok va bene nulla secondo me se fanno comunque come ha detto Luca è un posto da sì da mille mille e cinquecento persone è l'ideale se dovessero fare una tappa in Italia perché possono fare sold out probabilmente lo faranno ed è giusto così anche spendi di meno ci sono anche questi nei tour ragazzi i costi sono top notch cioè bisogna stare con gli occhi spalancati le orecchie aperte il cervello in funzione perché sennò riesce a debilare un'inculata economica di dimensioni non indifferenti secondo me Milano per l'Atene è la tappa migliore ci ho pensato anch'io infatti allora David W basta perché ne abbiamo parlato parecchio nella live precedente quindi sti cazzi lei w amen tna abbiamo fatta wrestling italiana abbiamo fatto così tna siete tutti concordi sul fatto che joe vince il titolo oppure su Ervon e mantiene Nemeth no lo vince joe andry per me proprio hanno fatto benissimo a non darglielo in primo luogo la stessa l'universa lì era la stessa l'universa hanno fatto benissimo a non darglielo lì nel primo momento e a far vincere Nemeth hanno vinto Nemeth è vero? credo che si ha vinto Nemeth l'universa sì sì era il match per gli A6 sì sì il campione era Moose che era stato eliminato da Joe Henry e poi Josh gli ha fatto il low blow sì 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 il tournilla sì 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 perché poi hanno avuto il build up che io volevo Joe Henry tu glielo dai perché ha una popolarità mostruosa I believe in Joe Henry ora va anche l'Eurovision ha detto non è vero non ci andrà spoiler purtroppo lo dico da grande fan dell'Eurovision però sarebbe bello rappresentare il Regno Unito con un remix di I believe in Joe Henry però ha avuto il build up che chiedevo io di 3-4 mesi e ora lui è uno sfidante credibilissimo che può vincere il titolo e per me lo vince spinto dalla popolarità perché fa ragazzi fa LA Knight ha avuto il match per i titoli mondiali ed è diventato campione per me per quello J.Use è riuscito a tenersi in alto per quello perché la popolarità nel wrestling fa è inutile se sei un fenomeno funziona così è normale oltre a quello immagino che venda anche merchandising per la TNA quindi eh sì cazzo sì a me per nulla mai visto un face meno carismatico ma di cosa di un downgrade di Eddie Edwards vabbè madonna un veterano cioè Edwards in più della carriera penso l'abbia già fatto poi nel 2020 per me è stato un mezzo miracolo che abbia vinto il titolo del mondo per un po' prima di cederlo Eric Young perché sì è successo questo in pandemia poi l'ha vinto Rich Swann e poi l'ha vinto Kenny Omega e poi l'ha vinto Christian Cage e poi l'ha vinto Josh Alexander Moose e di nuovo Josh Alexander via così e anche lì vorrei lanciare una polemica la partnership tra NXT e TNA ha fatto molto meglio di quella tra AEW e TNA e chiudo siamo tutti d'accordo chat lo dico a tutto il mondo del professional wrestling non penso sia un dato di fatto soggettivo ma è un dato di fatto oggettivo che la collaborazione tra la AEW e la TNA non ha portato a un cazzo rispetto a quella tra NXT e TNA no perché se no l'unica cosa a cui sono arrivati con quella partnership è il rating più basso della serie di Impact quando gli hanno mandato Kenny Omega nel periodo del Bell Collector e poi se leggi su Twitter vedi come la gente dica eh ma adesso gli ubano Joe Henry gli ubano Jordan Grace non ci hanno guadagnato niente con la partnership a me non risulta comunque la TNA un minimo di interesse l'ha ottenuto divisibilità a Balfour Glory ci sta Wendy Chu di nuovo che ormai in TNA ha fatto più più match di NXT tra poco ragazzi se vogliamo parlare di ciulare ma quanta roba ha ciulato la EW alla New Japan vabbè tutti Okada Jay White Will Ospreay non solo quello anche i titoli Juice Robinson chiunque letteralmente sì possiamo dire che Joe Henry ha fatto grande parte secondo me anche per questo che è stata meglio ma grande parte di che? della partnership ah ok ha svolto un ruolo da protagonista sì perché è andato per il titolo eh ragazzi hanno merci credo Contro Ethan Page Oligo Carbonato che ha già perso il titolo scusami Oligo Ethan Page che ha perso già contro Allora ammettiti con la verità non era piaciuto neanche il modo in cui l'ha vinto la prima volta lì col fatto che cade steso quindi il corpo e via quindi ok non lo so io i Time Page lo vedo già proiettato verso il main roster secondo me perderà anche ora Halloween Evo che secondo me sarà la Rumble e poi main roster sì sì d'accordissimo poi hanno già buttato dei semi per una file da questo di Punk qualcosa era a Ro a parlare con Adam Pears poi è arrivata Eva con la sua solita risata da deficiente schifosa e altre cose ma poi cioè io l'ho già detto non mi ricordo quante streame fa ma lo ribadisco Eva è una delle cose più snervanti che ci siano in WWE in questo momento ogni volta che ha a schermo Eva ho una voglia di mettere il muto ma vi giuro su Dio I'm the boss I decide non me ne frega un cazzo non me ne frega un cazzo lo so come funziona il general manager con quei dentoni più che la figlia di The Rock sembra la figlia di Kevin Dunn vabbè madonna cioè sì in realtà sì cioè abbiamo avuto William Riggard come siamo passati a Eva è di una di una bassezza di una tristezza siamo passati siamo passati a Eva perché purtroppo sul ring gli hanno fatto fare quel match cos'era nel con lo schism hanno capito che purtroppo era molto molto green e quindi qualcosa le si doveva far fare purtroppo quindi l'unica sì mi sa se ha spesso proprio di allenarsi come performer o se ci stanno ancora provando non ho dei dubbi io in merda questo vabbè comunque per il tempo sta venendo su Twitter perché ora c'è la tappa Manchester c'è Cody che ha detto Manchester lo volete un PLI non hanno annunciato nulla però per dire questa cosa io penso che a questo punto Elimination Chamber 2025 e Manchester quindi si conferma quella propizione che era stata fatta che era tra Manchester e un'altra città che non mi ricordo e Birmingham quindi sì Manchester penso posso stare Elimination Chamber in ciabattine secondo me il migliore di NXT attualmente è Javon Evans che per l'età che ha ha una funzione ad eseguire certe mosse che è incredibile l'abbiamo votato credo Javon Evans peccato per quell'archeo ma lì secondo me ha un po' overrotato quando ha fatto e quindi sono incartati sì hanno voluto esagerare tra tutti e due sono d'accordo hanno esagerato era veramente uno spot di una difficoltà mostruosa e nel post match Javon gli ha detto eh ho sbagliato bro mi dispiace ha detto proprio bro a Randy Orton ho sbagliato bro mi dispiace e quell'altro non ti preoccupare sei un you're the fucking man you're the fucking man sei il cazzo di e invece nel 2009 è stupid stupid vedi come cambiano le persone vedi come è venuto bravo bravo Randy la maturità si raggiunge anche sotto questo punto di vista volevo dire un'ultima cosa e poi chiudere il problema è che me la sono scordata e ora cercherò di ricordarmela in questi secondi io spero che lo annunci nel 2025 il primo livemento in Italia e che poi lo fanno nel 2026 almeno così sono sicuro di aver messo da parte un bel gruzzoletto vabbè madonna a me in casa vi spende 100.000 euro che cazzo è una coia io non lo so se proprio mi parte lo sghirivizzo è probabile che mi decida di droppare i trick up e andare nelle prime file sì lì saresti veramente in folle nei trick up perché le prime file sono solo riservate ai pacchetti on location comunque nei 3k hai anche il merchandising e anche il meet and greet con delle superstar che scegliono loro quindi comunque non è che solo la prima fila però è comunque un costo è incluso anche il breakdown o solo uno show è incluso soltanto il PLE immaginavo poi al meet and greet chissà chi ti trovi per esempio a Bologna nei meet and greet c'erano non sono tutte Jade Cargill va bene se Federico si trova davanti Jade Cargill diciamo che i 3k gli esplicano bene immagino se nei meet and greet c'è Phil Balor che goduri no Balor c'è lo sangue probabilmente Valor Gargano se ti metti quella se Federico si trova Gargano davanti lo uccide no capito mi smolla un destro shoot si prende 28.000 dollari di multa dalla WWE va in banca ruta la mia vita probabilmente invece per esempio a Bershing Berlin nelle meet and greet c'erano Gunther Rhea e Damian eh madonna eh madonna sono bastardi eh sì se c'è Jade Cargill gli dono tutti gli organi vabbè pure in chat adesso siete completamente fuori di test allora ecco che cazzo mi sono ricordato è bello quando mi ricordo le cose Luca tu sei stato più volte a vedere la Scoscia Jobber siamo tornati un attimo sul breast in italiano è incredibile il tenore di defezioni che ha quella promotion cioè è una cosa gringo loco Robby X due dei top internazionali che danno buco a uno per motivi personali l'altro per guardate la webcam infortunio quindi insomma infortunio poi sabato c'ha il match con Zack Saber Junior quindi sì sì infortunio quindi cioè loro ma io ho perso il conto io ho veramente perso il conto è un peccato io mi ricordo anche uno show addirittura che era stato pubblicizzato Gio Gianella e lui non venne perché si era dimenticato il passaporto per farti capire il livello vero ha fatto un cosa un reel ha fatto un reel per la Scoscia Jobber dove ha detto ah raga sono in aeroporto cazzo sbagliata sembrava però sono molto contento di questo ne parlavo con Ea già mesi fa sono contento che finalmente si sono decisi a trovare una location a Milano perché c'è stato dal punto di vista logistico era molto difficile era giù molto difficile un danno al magnete al magnete di Milano perché è interessato a gennaio il 25 e tra l'altro c'è 37 cioè un nome parecchio parecchio ciotto bello sperando non sa anche lì penso corsi di corsi storici perché 7 era stato più volte in Lombardia con l'ASCA la promotion con l'ASCA che è la sagge dell'erede spirituale dell'ASCA si sono fusi titoli di coppia con i loro e volevo dire un'ultima cosa sul breast in italiano che è l'OTT che tra poco fa anche l'evento del decimo anniversario con In Judgment Day con Bador e McDonagh infatti io ti faccio uno spoiler e sarò lì sabato prossimo immaginavo immaginavo Dublino 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 che roba mamma mia spacca e ti devo dire un'ultima cosa l'OTT sta domani venerdì dopo domani e tra quattro giorni in Toscana sta in Toscana in SIW faranno un evento congiunto e mi sono detto cazzo figo proprio il World Collide letteralmente perché c'è la X in mezzo l'hanno fatto anche la Squash Jobber e la Break tra l'altro al gennaio di quest'anno tra l'altro e poi fanno Contenders cioè Contenders è una serie di eventi propria dell'OTT dove danno spazio a tantissimi atleti delle indie cioè delle indie piccole perché l'OTT è un indie grossa rispetto alla media quindi è figo perché è la seconda edizione in Italia dopo quella fatta con la NWF a Milano e ormai sono tante edizioni che vediamo italiani che vanno anche a Dublino c'è LG Vittorio Bruni Tao Man Xander boh me ne sto dimenticando un sacco è figo cioè quello che ti voglio domandare è ma l'OTT lo rifà nel 2025 un nuovo show in Italia di pushdown in Milan cazzo c'è autocontenders lo rifà perché questo qui me l'aveva detto Joe il promoter Joe Cabret comunque lo show che avevano fatto quello lì a Pero dove Renzo vinse il titolo contro Seven comunque aveva fatto una bella cornice di pubblico era piaciuto quindi secondo me lo rifaranno poi come hai detto tu sono anche agevolati dal fatto che c'è questo gemellaggio Italia-Irlanda perché sono moltissimi italiani sia nel roster sia quelli che si vanno a allenare perché comunque oltre a Renzo c'hai The Sam c'hai Ilazarco c'hai quindi comunque c'hai parecchi italiani molti che si vanno a allenare quindi secondo me secondo me sì assolutamente tra l'altro sono curioso di capire se il match tra vabbè possiamo spoilerare chi ha vinto un SW l'avete già detto quindi sono curioso di vedere se il match tra The Sam e Alex Flash lo fanno già ora o più avanti sì 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 possiamo assolutamente dirlo comunque io credo lo faranno questo weekend e penso ti dirò di più credo sia almeno cioè non so un cazzo vado proprio a ipotesi sarà il meno evento dello show congiunto quindi quello del sabato io inizialmente pensavo che solo giocassero per l'anniversario però essendo una cornice così importante dovevamo già annunciarlo non avendo annunciato non penso che lo faranno lì no penso sia sì penso che l'anniversario faranno The Sam contro Josh visto che ha finto l'infortunio e poi ha tornato madonna madonna che cazzo di gioiello voi se non conoscete Bitters with Josh un italiano all'estero fenomenale a livello di character madonna che figata intervistarlo è stato bellissimo era tutto in maschera bello Oscar fermo lì l'ho trovato no che cazzo è questa roba no no mi ha fatto casino un attimino vi devo assolutamente girare una roba perché almeno così ve la lascio in chat anche perché ora stiamo per staccare e almeno così ce l'avete e no 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 penso io sto tranquillo sbaglio o collaborano con la SW collaborano con la SW e con la Milan Wrestling Federation in OTT per adesso per adesso hanno queste due domanda di Dino noi che siamo esperti vabbè ok in un reel Owens, Zane e Becky Lynch avevano detto che non erano stati pagati in Italia anni fa si sa l'evento preciso è vero me lo ricordo anche io non si sa l'evento e più che altro almeno a memoria non si è mai capito chi è questo promoter uomo o donna che non ha pagato però sì 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 c'erano parecchie leggende cioè io mi ricordo che all'epoca quando erano ancora Stin, il generico e Becky vennero in Italia nel 2005 quindi dopo quando erano ancora giovanissimi però non sapevo che ci fosse stata questa vergogna di non pagare i lottatori e addirittura al generico a semi fregarono il portafoglio madonna che lavoro no crazy scusate che stiamo cercando di cucinare io e il presidente live ma ho paura non ce la faremo allora sto cercando di questa cosa che ancora non ho trovato ci sono eh chat ci sono eccolo l'ho trovato lo sapevo il più forte le forci sono io eccolo lì link subito boom allora in chat adesso non lo state vedendo perché sono un coglione io adesso vedete questo link cos'è questo link è un'intervista del sottoscritto a Maurizio Merluzzi visto che l'avete detto in chat se volete sentire qualcosa inerente allo i papi è realizzato ovviamente per The Sheddle Wrestling eccola qui molto 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 semplicemente eccola qui va bene sì ci hai proprio beccato preciso Oscar comunque no questa roba dell'evento italiano sus ma sus per davvero allora anche perché mi fa ridere questa cosa che nel video Semi cita un nome Emilio ma è appurato che non è Emilio Bernocchi quindi la SW non c'entra nulla che stranezza vabbè basta 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 avevo detto un'ora a Luca siamo stati un'ora e quaranta ci siamo messi a dire eh vabbè il tempo vola quando ci si diverte o quando si è raffiti dallo yapapi le cose sono due ne sa qualcosa picchio eh vabbè sto scherzando un saluto a picchio peraltro no l'avevamo raffito per Fall Guys lo raffiremo ancora poi l'abbiamo lasciato perché doveva essere pushato nel 6W però l'abbiamo raffinato anche l'evento di 6W ragazzi e invece ultima cosa per chiudere tu che cosa ti aspetti da GDG 2025 visto che noi eravamo a Colossal eravamo anche a GDG 2024 il 9 marzo mi aspetto il ritorno in ring di Maurizio Merluzzi a volte a quello ti aspetto un evento magari con qualche nome straniero qualche novità qualcosa perché diciamo c'è lo Colossal comunque un po' dal punto di vista qualitativo rispetto a GDG mancava di appeal ecco tu ti aspetti qualcosa sono d'accordissimo per quanto sia stato un evento molto solido è stato sicuramente più interessante sulla carta il giorno del giudizio credo che l'interesse sarà praticamente una via di mezzo via di mezzo tra GDG e Colossal quindi più di Colossal ma comunque non quanto GDG una via di mezzo quindi un miglioramento comunque rispetto all'ultima volta reputo che oltre al ritorno di Maurizio ci sarà qualche altro influencer che lotterà proprio spero uno e basta Massimo e credo che di nomi no di nomi internazionali il livello sarà quello di Sig Scala secondo me Luca anzi anzi forse ci scappa un nome bello della OTT con nome bello della OTT chi intendo io spererei un Trans7 io spererei un Big Demo non lo so se è possibile ma ragazzi Vittorio di Big Demo è da cazzo in mano effettivamente questa sinergia continua sì ma invece tipo di vedere un Akira la vedi dura perché sta in Giappone ormai un Akira cazzo difende dalla schedule non possiamo saperlo difende solo dalla schedule dannazione perché purtroppo lui a parte che fa la Super Junior Tag League Akira di nuovo l'hanno reinserito nella Tag League che ha già vinto con TGP con TGP nel blocco B mi sembra non so quando partono ma c'è ancora e e quindi vediamo sì Akira Akira veramente è la persona più chill del creato se li iscrivi ti risponde è proprio un ragazzo meraviglioso spero tutti si è divertito grazie a te grazie ai broschi dello Iapato grazie a tutti che stanno alla BN dello Family speriamo di fare a questo punto la prossima live se a novembre annuncia il nostro benedetto più e lei ci rivediamo qui a commentare e a gioire dell'annuncio guarda sai cosa si prova a sequestrare anche Max adesso Max intanto deve risorgere rispondermi su Messenger poi poi ne possiamo parlare Federico comunque questo era un commento dalla chat ma lo spaccio per mio grazie e dico sì se dovesse essere il piel in Italia Luca torna subito a PASAP tanto io avevo detto all'inizio off stream abbiamo qualcosa ma non troppo non so quanto durerà è durata più dell'altra volta ma perché oggi veramente abbiamo affrontato argomenti proprio trasversali da Napoli a Speaking Out a TNA siamo andati a prendere veramente un fottile di roba ma che è nata nel discorso in medias res come si suol dire questo è il linguaggio italico aulico cioè voglio dire Ubufu Davide Avri con con Luca si potrebbe fare un Ubufufu un torneino un torneino simpatico se c'è se c'è il pie lì c'è quello però ora guardiamo intanto per stasera basta quindi Luca grazie di cuore per essere stato con noi l'hai già detto quindi grazie chat grazie chat grazie dei beat degli abbonamenti grazie di tutto davvero a chi c'è stato per tutta la stream a chi solo per un pezzettino a chi guarderà indifferita l'appuntamento è settimana prossima perché noi non ristreamiamo questa settimana settimana prossima vediamo cosa fare seguite Instagram nelle stories saprete sempre che cosa faremo e seguiteci su YouTube e TikTok per contenuti in esclusiva che siano video che siano contenuti brevi verticali detto questo gli altri i wrestling gli altri content cioè gli altri social i podcast detto questo da parte mia una buona notte e e l'appuntamento settimana prossima ciao 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 ciao